Apri lo sportello come fai con Tom Hanks Sì, è raffinato Fai quella cosina? Sì, va bene, mi sembra che sto bene Ciao Gerry, come stai? Bobby Bofinger Bofinger, film, abbiamo fatto insieme quella cosa Un paio d'anni fa Quale cosa? Il film, il film famoso Tu portami questo copione Kit Ramsey e avrai il tuo campione d'incassa Facciamo il film! Facciamo il film! Questo copione è musica Cosa? Musica, musica, questa roba è musica, è oro colato E prendimi, prendimi Kit non ha bisogno di Bobby Fuori dalla mia macchina Come fai a fare un film con Kit Ramsey se ti ha detto di no? Credi che non ci abbia pensato e già risolto alla grande? I nostri attori gli si avvicineranno e diranno le battute Ed è nel film anche lui Tu preferisci l'amore alieno al mio Amore alieno? Amore alieno a chi? Di un po' C'è in giro gente strana che mi ferma per la strada E mi parla in un linguaggio segreto dei bianchi Dico non so il codice Ma quando non puoi avere il più grande divo di Hollywood È svanito, dileguato Il mondo è pieno di gente come Kit Troviamo qualcuno che gli assomigli Devi improvvisare Sei disposto a girare delle scene in cui mostri il posteriore? Eh sì, credo di sì Ora la trappola è scattata Sai che ti dico? Che sono vittima di un complotto E Kit Ramsey è impegnato nella performance della sua vita Ma apri un po' La sua paura è così vera No no! Vai, 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 Freddy! Gli Universo Pictures e Image Entertainment presentano Un nuovo film del produttore del Professore Matto E il regista di In e Out Steve Martin Tu cominci a correre da laggiù a quaggiù È chiaro, ma non è che rischio di finire sotto, no? No, 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 no Eddie Murphy Azione! Oddio padre! Oddio padre! Non la voglio più fare! E Edgar Graham Questa è una scena di erotismo In questa scena Daisy si toglie la camicetta Bowfinger Azione! Stai messo bene Grazie a tutti!